Rilanciare l'occupazione a partire da quella giovanile con una linea comune in Europa è il principale obiettivo con il quale i ministri del lavoro e delle finanze di Italia, Francia, Germania e Spagna si sono riuniti oggi a Roma per il vertice internazionale Jobs for Youth. Il presidente del Consiglio Letta in apertura dei lavori ha sottolineato l'importanza del formato del vertice che vede insieme i ministri del lavoro e quelli delle finanze. Questa è la chiave per affrontare la lotta alla disoccupazione in Europa e il cuore di come l'UE deve rispondere alla crisi, ha detto il Premier. Dal prossimo vertice di Bruxelles l'Italia si attende due risultati, il completamento dell'unione bancaria e misure concrete di contrasto alla disoccupazione giovanile. Dal Summit, ha ribadito Letta, bisogna uscire con fatti concreti, non con parole. L'intenzione, tuttavia, è di evitare fughe in avanti intergovernative. A questo scopo, Letta ha ricordato che domani, oltre all'incontro con il presidente della Commissione UE Barroso, avrà una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio, Van Rompuy, per aggiornarlo sull'esito della ministeriale. Alla fine del Summit, Saccomani ha sintetizzato così. C'è stato un consenso sulla necessità di dare un segnale forte sulla lotta alla disoccupazione, ed è stato confermato l'impegno a restare nell'ambito delle strategie di risanamento, che resta la precondizione importante per la crescita sostenibile. D'altra parte, lo stesso collega tedesco Schäuble ha sottolineato l'importanza di mantenere le regole di stabilità, chiarendo sulle ipotesi di deroghe al patto sull'equilibrio dei conti. Il ministro italiano ha poi spiegato che dalla BEI possono arrivare fino a 60 miliardi per finanziare l'occupazione presso le piccole e medie imprese. Nonostante il fatto che il vertice arrivi proprio mentre l'Italia segna il nuovo record del debito pubblico, Letta rivendica che il Summit è la dimostrazione della volontà di muovere una ruota. Cerca di affrontare il problema più drammatico, quello del lavoro, soprattutto dei giovani. Poi la rassicurazione al vertice europeo di fine giugno non ci accontenteremo di parole, di dichiarazioni. Uno dei problemi dell'Europa di oggi, secondo Letta, è un eccesso di parole che non si sono tramutate infatti. Insieme alle misure per il lavoro, anche l'Unione bancaria va in cima all'agenda suggerita da Letta, punto citato con risalto anche da Schäuble. Intanto l'Italia può contare sul pacchetto di riforme del ministro del lavoro Enrico Giovannini, che ieri ha incontrato i sindacati con l'obiettivo di arrivare a un'intesa entro fine mese. Il piano prevede incentivi per le aziende che assumono giovani a tempo indeterminato, una revisione attenta della riforma Fornero con un'ulteriore semplificazione dell'Istituto dell'Apprendistato. In più, Letta ha assicurato che prima del vertice europeo l'Italia presenterà un piano nazionale di contrasto alla disoccupazione.